ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su mist survival che cos'è è un survival che prende spunto però da tanti altri giochi come the forest come rust come subsistence seven days to die perché ci troviamo in un mondo aperto il gioco è solo offline per fortuna direi io perché almeno così non si è obbligati non ci si trova davanti a giochi dove bisogna per forza cooperare con altri alcuni non hanno voglia di giocare con altra gente dove socializzare un po come lingua solo inglese non c'è possibilità di scelta e ci sono tutti i tasti che ci vengono anche segnalati dal gioco il gioco offre tanto è uscito il 15 agosto del 2018 quindi da un anno e mezzo ma ha veramente tante cose mi pare abbia anche le stagioni ma non vorrei dire una stupidata ha sicuramente la gestione elettrica possibilità di avere la base un po alla state of decay prende spunto anche da quello che secondo me la possibilità di riparare guidare auto travasare i liquidi di amministrare anche sopravvissuti perché ci sono i sopravvissuti possiamo averli con noi e ci sono banditi ci sono zombie che cos'è successo nel mondo allora nel mondo praticamente adesso la storia sta per cominciare e il gioco ci sta per spiegare che cosa è successo esattamente si parla di una nebbia e una nebbia tre anni fa una misteriosa cosa è successa una misteriosa nebbia ha coperto molte parti del mondo molte persone si sono malate sono morte molte altre sono sopravvissute ma hanno sofferto di dei cambiamenti sono diventati feroci quando hanno toccato hanno iniziato a mangiare gli altri in pratica noi siamo uno dei pochi che veramente immune e siamo sopravvissuti con altri finché queste caricature ci hanno attaccato e tu sei l'unico sopravvissuto è un gioco che intanto ci spariamo il tutorial la stamina la fatica ci mostra ok qua possiamo amministrare la crew quindi l'equipaggio diciamo che abbiamo all'interno possiamo amministrare le stanze un po alla fatto anche un po meglio rispetto a state of decay 2 e 1 abbiamo le farecce possibilità di graftare abbiamo la possibilità di trovare diversi tipi di ore di metalli e che possiamo poi raffinare insieme a zinco e copper insomma otteniamo quello possiamo andare anche a combinarli quello che ho scoperto a mie spese è che non c'è modo di graftarsi un'accetta quindi l'accetta va trovata e tra l'altro nulla vi vieta di iniziare a giocare un po alla cazzo e quello non è mai una buona cosa perché qua intorno ci sono delle case io sono entrato e sono morto istantaneamente sono innato perdendo alcuni oggetti perché quando si muore si perdono alcuni oggetti vedete qua c'è la possibilità di vedere quello che abbiamo all'interno che è settata come una base ma non c'è nulla non ci sono stanze non c'è niente possibilità come vedete qui di vedere il nostro livello di fame di sete la vita la fatica la stamina il freddo e con la i apriamo l'inventario che al momento è composto da due caselle c'è da 6 più 6 12 con efe recuperando questi design andiamo espandere il nostro zaino l'abbiamo espanso di due aprendo invece il confronto della macchina abbiamo modo di vedere le componenti richieste per avviare una ma un auto e il motore le candele la batteria quattro gomme e benzina se noi mettessimo invece una tannica potremmo estrarre alla benzina oppure riempire graficamente molto carino è davvero ben fatto ecco qua abbiamo già l'accetta che ci serve ne la mettiamo nella mano principale abbiamo anche dell'acqua abbiamo della verdura in no della frutta bio fuel fuel pieno al cento per cento e abbiamo anche degli ah mi sfugge il termine abbiamo dei fiammiferi ecco poi sempre col tasto i possiamo andare a vedere tutto quello che possiamo craftare al momento come vedete possiamo andare a craftare degli stick usando dei rametti delle delle assi usando dei tronchi abbiamo una serie di cose abbiamo anche la conservazione dei cibi quindi la possibilità di evitare che vadano male con il sale abbiamo la possibilità di crearci delle torce dei sacchi per impacchettare terra e la sleeping bag per poter dormire al momento per abbiamo la tenda qua abbiamo il primo soccorso quindi con le bende i proiettili in questo caso sono le frecce una lancia volendo che possiamo farci ci serve per un coltello degli scudi polvere polveri varie e dog tag ma per cambiare sì ecco esatto per dare da mangiare alle galline o per i cani perché c'è anche luce band e quindi la possibilità di addomesticare gli animali è un gioco che è uscito dicevo da un anno e mezzo io l'avevo già ad occhiato tempo fa ma non l'avevo mai preso se questo è stato l'unico acquisto che ho fatto i saldi invernali di stimma l'ho pagato costa 9 euro 8 e 99 affarone secondo me uno dei pochi delle poche volte che vi dico un affarone costava infatti un euro in meno ma l'avevo preso comunque prima o poi perché è stato portato avanti come dio comanda ecco come si possa dire intanto avanziamo e vediamo se troviamo qualcosa di interessante le roulotte a quanto mi pare è stata un po' una delusione ma non ci si può entrare allora abbiamo ok rag ci ci serviva rag ci serviva dobbiamo fare attenzione tutto quello che prendiamo perché ci servirà ci serviranno tante cose per poter castare quello che ci serve insomma dalle dalle stanze alle ai vari tool e anche i tavoli da lavoro ovviamente stiamo recuperando un po di roba ovviamente poi l'inventario diventa pieno e quindi ovviamente gli oggetti uguali sono impilabili gli altri no allora qua non possiamo fare niente non è un'auto lutabile intanto stiamo prendendo un po di scrap c'è anche la meccanica stealth quindi bisogna fare attenzione e poi ovviamente ci sono le armi da fuoco insomma che altro che altro dire di più si possono trovare delle case e le case vengono alcune vengono segnalate come possibili rifugi quindi dobbiamo fare attenzione e e prenderne una magari un po più bella di quella che già possediamo al momento adesso col tasto 1 estraggo l'accetta e abbatto l'albero mi ricorda anche un po de forest questa cosa dell'albero anche se credo che the forest forse ha più più netto il taglio invece lì si vede proprio il primo solco poi arriviamo alla fine una cosa a cui dobbiamo fare attenzione è la notte su tutti perché escono i mostri e soprattutto quando la nebbia arriva magari possiamo iniziare a vederla all'orizzonte dobbiamo fare attenzione perché la nebbia quando arriva si porta dietro tutti i non morti insomma qua non possiamo più prendere nulla perché perché non abbiamo spazio quindi direi che possiamo buttare ad stick cosa buttiamo questo non si può mannaggia no io mangio questo lo mangio ogni cosa che noi mangiamo ogni azione che noi compiamo nel mondo porta via del tempo praticamente se noi per cartare una cosa ci chiede tot ore le ore passano velocemente ma vedete pochi secondi vedete però le ore che passano quindi quello che noi andiamo a fare va a influenzare tantissimo la il tempo di gioco adesso possiamo dare un occhiato intorno abbiamo mangiato dovremmo essere sazi abbiamo solo un po di sete ma la sete io la tengo lì vediamo se c'è qualcosa qua vicino perché ovviamente vorrei arrivare almeno a prendere una casa ma conoscendo la mia sfiga direi che è abbastanza difficile riusciremo a fare qualcosa qualcosa che vada nel verso giusto o c'è c'è un'auto anche lì e c'è anche un rimorchio lì fare attenzione perché mi pare a mancano alcuni mesi all'inverno sono le 9 25 di mattina quindi non c'è nulla all'interno quindi abbiamo andiamo abbastanza tranquilli c'è una valigia e qua dietro invece troviamo altre cose che possiamo prendere abbiamo dei fiammiferi che prendiamo e abbiamo del del beef da mangiare dando un'occhiata dovessi buttare via qualcosa di 50 kg di legna stiamo trasportando buttiamo via i branch e i rametti li mettiamo qua nella macchina prendiamo il cibo anche se al momento di cibo ne abbiamo andiamo verso quel campo là io onestamente non saprei da che parte è la base tornarci indietro non lo saprei ma magari oh ma c'è un campo là in fondo ok poi ci sono anche animali beh seguiamo la montagna in caso ci sono dei degli orsi comunque animali selvatici che sono molto tosti da affrontare perlomeno senza le armi da fuoco quindi bisogna fare attenzione dove si va adesso sto camminando pian piano ma potrei anche fare una una corsetta ok e ho già l'inventario pieno e spero di trovare presto quanto prima uno zaino per espandere almeno un pochino il mio inventario poi io open eccolo qua abbiamo finalmente quello che ci serviva allora io adesso temporeggio un attimo e appoggio la roccia qui prendo questo vado nell'harvest apro un inventario vado nella nelle armi e vado a craftarmi il lascia vedete che passa il tempo adesso 15 minuti il tempo passa velocemente anche qua in alto abbiamo castato lascia la lascia la lancia abbiamo liberato spazio quindi dovrei poter andare a riprendermi il sassolino e ringrazio anche amon rouge che mi è stato molto utile un canale simile al mio a qualche qualche scritto in più perché ho visto questo gioco da lui l'ho visto da lui e della verità visto da lui dopo essermi preso male perché il gioco l'avevo già comprato però ovviamente avevo iniziato in modo molto più affazzonato in modo molto più istintivo e è stato molto utile per me spero di esserlo altrettanto io perché spesso l'andare a vedere un gameplay aiuta tantissimo nella di valutare un gioco che magari potrebbe essere un poco fatto un po così quindi potrebbe sembrare così sulle prime io me lo gioco molto affazzonato molto così e mi sembra brutto e spero di aver fatto cambiare idea a più persone possibile almeno crafting tools questo ci serve lo metto non possiamo metterlo perché è usato automaticamente dall'inventario abbiamo un antibiotico per avvelenamento da cibo ma scusate questa è una spera ok non ci serviva da mettere sulla lancia ci serviva per scolpire quindi un oggetto da usare mannaggia io adesso cosa faccio cosa lascio qui lascio qua questo prendo un antibiotico si sto cercando di centelinare un po un gioco che si presta comunque a una serie di episodi un cervo no qua c'è una stazione cina la c'è un auto guidabile vediamo se questo si può aprire no no poi ho visto che si può andare a gestire la corrente della base non so ancora come dove come non so passiamo sopra questo difettuccio qui ecco questa è un'auto che non è una niente però sarebbe ufficialmente guidabile a parte questa questo vetro qua però sono sempre di quindi insomma io vorrei andare in un'altra casa però non voglio quella quella tenda quindi continuiamo l'esplorazione c'è quella torretta lì che mi ricorda tantissimo dei sgon piume e cacchio vorrei tenere tutto però non ho spazio devo trovare assolutamente uno zaino delle candele al 26 per cento perché le parti poi si usurano della macchina quindi si usurano e dobbiamo dobbiamo allora come siamo messi si stiamo bene dai saliamo su le candele le voglio prendere cioè poche balle allora beh i componenti non possiamo più qua abbiamo un rag qua abbiamo una valigia qua abbiamo un armadietto colpi nove millimetri rifle ammo niente 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 dobbiamo lasciare qua munizioni io queste qui non le lascio qua mi spiace posso lasciare qua i sassi prendo queste le cartucce non mi interessano devo lasciare quale candele comunque cioè non voglio lasciare quale candele piuttosto non lo so craftiamo qualcosa piuttosto vediamo che cosa possiamo fare di utile vediamo quello che abbiamo fatto facciamo no non ho chiodi quindi no possiamo fare niente possiamo fare perché non abbiamo manco la possibilità di fare l'arco non mi ricordo come si faceva l'arco ma al momento no allora i reg ne abbiamo 7 ce ne servono 10 ci servono piume anche il kit da sarto quindi diventa abbastanza complicato però l'utilità è che da qua possiamo capire dove possiamo andare e non c'è assolutamente niente allora noi arriviamo probabilmente dalla sotto quindi potremmo no la tenda è lì sotto quindi potremmo sotto c'è una tenda che dove eravamo prima la c'è una casa andiamo andiamo a dare un'occhiata e magari magari c'è ecco la casa la forse si riesce a prendere come rifugio quindi potrebbe già essere un buon passo avanti forse non lo so avanziamo zitti zitti però c'è un simbolino lì quindi penso di sì ok open shelter command make this your way active base perfetto abbiamo fatto la base quindi a questo punto dice che possiamo amministrare le stanze premendo però non ci sono stanze è proprio brutta però dentro c'è voglio capire se sono cassetti diversi ah sì assolutamente sì utile 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 perché qua dentro abbiamo un pain killer antidolorifico delle bende e basta l'ultimo è finto poi abbiamo uno zaino grazie dio aumenta l'inventario potete sbagliare tra altri due perfetto quindi possiamo tornare a prendere le candele qua non è un'auto modificabile questa sì ma c'è dentro solo benzina abbiamo già il biofuel open ten ok ok vediamo questa ottimo anche queste revolverammo i 9mm ok niente e niente qua si può aprire ma dentro mi pare che non ci sia niente di che ok va bene non sono neanche auto guidabili queste quindi ora siamo all'interno e non credo sia craftabile roba da qui bisogna andare qua allora allora open shelter ok vediamo un attimo base setting puoi cambiare premendo setter base quando è cambiato ok base shelter active range è 50 metri va bene piano floor 1 e no e no non mi fa fare niente no non posso fare niente qua non posso craftare assolutamente nulla è solo una casetta così giusto per avere un po' di un po' di un po' di spazio in più ecco ora dato che questa è la nostra base vado qua dentro e butto tutta quella roba che non mi interessa come vediamo se funziona con lo shift no non me lo fai maledetto manco con l'altro che devo buttarlo a mano va bene allora primo ci mettiamo i proiettili secondo ci mettiamo il cibo non tutto terzo e ultimo i medicinali è tutto qui devo trovare anche il martello perché il martello credo mi permetta di craftare altre cose volevo fare anche questo ma non abbiamo spazio quindi la casa è qui la casa è qui non ci possiamo fare niente spero di poterla vedere a distanza ma non credo poi ovviamente se avete dei suggerimenti dato che l'approccio di questo video è stato molto molto accorto rispetto ad altre volte ma se voi ne sapete di più lo avete già giocato lo conoscete meglio fatemi sapere e ditemi che cosa beh cosa come vi siete trovati col gioco e e cosa ho sbagliato e cosa c'è da fare magari perché io qui spazio ne ho dovrei iniziare a craftarmi un po' di tagliarmi un po' di legna aia mi sono fatto male bisogna... ecco un'altra cosa sul farsi male ci sono le ferite da richiudere perché sennò si inizia a sanguinare e poi è un casino questo è solo il giorno 1 dovrebbe arrivare a breve la la nebbia e dovremmo farci trovare pronti ora io non so adesso dove sia la mia tenda la mia scusate la mia casa e quindi dovrò tornare giù e cercarla senso dell'orientamento 0 sperando di non incontrare un orso no non sono arrivato a casa ma sono arrivato ad un altro edificio quindi adesso dovrò rimettermi a cercare casa però intanto diamo un'occhiata ah ma siamo sulla strada qua bene questo non credo sia visitabile però non si apriva neanche quello di prima infatti allora allora ok li siamo scesi verso la strada quindi sarà una delle prossime destinazioni quella quell'edificio lì lì c'è dell'altro perché c'è una no questa è casa ok è casa ho visto queste cose qui e mi hanno un po' tratto in inganno vediamo intanto se riusciamo a fare ok 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 molto bene e lo macelliamo con ah interessante la sega lascia il macete no lo macelliamo col con questo no no scusami devo macellarlo ah mamma mia ragazzi ma cioè cambia anche la carne è difficile da usare no no facciamolo con questo macella ma pazzesco devo metterla anche in fresco dopo tutta sta roba no mi interessano le pelli ma c'è un limite massimo no posso guardate quante ore posso passare con lo rischio di trovarmi magari in mezzo a alla nebbia mentre sto facendo questo lavoro quindi credo di poter annullare in caso si metta male ma è veramente veramente figo le zampe non ci posso ottenere nulla la testa carne ancora pazzesco ma è bellissima sta cosa eh niente qua dovremmo poter interagire per cucinare ci servono dei vegetali un contenitore dell'acqua eh cazzarola ehm acqua gli di mettiamo giù 30 ml si quanti minuti quante ore ci ho messo la allora abbiamo acqua metto la carne e la cucino nell'acqua così senza ricette no no perchè non me la fai fare la rendere ah no ok devo usare una di queste eh il problema è che non ho carote ma c'è ma dobbiamo per forza cioè tipo scaldare la carne così e basta no non si può eh 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 ci servono i vegetali se invece io faccio questo render fat cosa succede grasso animale scusami ma voglio tornare a prendere il grasso voglio vedere cosa si può fare col grasso animal fat voglio prendere no vabbè dammi un chilo e mezzo di grasso non di più 30 minuti direi che basta uh guardate l'ombra l'ombra che si muove ok ho preso anche del grasso vediamo cosa faccio con il con il grasso adesso animal fat click the fuel can icon to collect item ma ah si può fare si può creare carburante con il grasso animal fat boh non so che ore si sono fatte le 14 io voglio continuare a restare il grasso si si va bene perché le interiore dell'animale non so che farmene ah ecco non posso neanche prenderlo il grasso perché sono pieno pieno di grasso vabbè sta arrivando anche una certa nebbiolina però adesso adesso due secondi e non si può perché rientra fatta vabbè intanto io ero così nel dubbio eh mi metto in casa e chiudo la porta perché non so che cacchio succeda con la nebbia adesso poi mi sto prendendo bene e dovrei anche smetterla comunque dovrei craft craftarmi il letto comunque questa è la famigerata nebbia di cui noi siamo immuni ma altri no quindi probabilmente potrebbe portare qua da noi un po' di gente infatti guardatelo lì facciamo silenzio e vediamo di sopravvivere si può salvare credo in qualsiasi momento infatti abbiamo salvato che è comodissima sta cosa se vende gay place wait perfetto abbiamo salvato erano solo le 15.30 di no di pomeriggio scusate 15.30 di no di pomeriggio fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questo mist survival io vi dico al prezzo che ha anche prezzo pieno è un affarone calcolando che si può anche guidare si possono domestichare gli animali insomma di cose ne abbiamo viste parecchie in questo video ed è andata anche piuttosto bene quindi fatemi sapere cosa ne pensate se avete consigli lasciatemi lì qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao